fine del primo tempo zero a zero per per Trattorino e Inter io spero vivamente vivamente che Inzaghi in questo fine primo tempo negli spogliatoi metta mano alla squadra non solo per i cambi ma anche con le indicazioni perché l'Inter non può andare avanti a giocare così ma non perché sta giocando male perché sta giocando male ma per l'idea di gioco che sta applicando nelle condizioni in cui è. Tu dicevo la strategia che è sbagliata. Ma completamente ma non può non può un Inter sulle gambe in questa maniera su un campo pesante contro una squadra comunque fisicamente tosta. Sfilacciata. Andare a pressare ma Mavarella non può prendere e farsi 40 metri di campo in verticale per andare a pressare il portiere avversario con la squadra che rimane dietro e lui sul lancio lungo deve tornare indietro di 50 metri ma cosa serve? Ma che senso ha? Io gli devo dire oh sta in posizione stiamo uniti cerchiamo di uscire insieme di tornare insieme. non stiamo così perché la perdiamo sta partita eh. Se giochiamo così sta partita la perdiamo. Non la pareggiamo la perdiamo. Siete d'accordo ragazzi? Cioè Inzaghi deve mettere mano e deve mettere mano anche alle sue idee stesse. Alle sue idee stesse. Eh? Tu non ascolti male. C'è questo vizio. Quando parli parlo poi quando non parlo più ti chiede no. Certo. No no dicevo che come dice Filippo Inzaghi dovrà dire i suoi di fare cose diverse rispetto a quelle che gli ha detto rifare in il suo partito. Ha perfettamente ragione secondo me. Cioè quando la squadra è in sofferenza per qualsiasi motivo cioè l'abc del calcio fare quadrato mettersi tutti vicini e farsi forza uno con l'altro. Invece invece diciamo questo qua è un tipo di gioco che puoi farlo quando sei al top. Certo. Come condizione fisica. Certo. Come è il campo pesante. Ripeto la stessa cosa che ha detto Filippo. Capo pesante. Eh non sei in una condizione ottimale e ti permetti di andare a pressare con i centrocampisti a alto così. Mi sembra un po' azzardato. E io ripeto quello che ho detto prima che prova di pari passo con quello che hanno detto Filippo e Simone Alessandro. Dà l'idea che se invece del Toro ci fosse una squadra più attrezzata là davanti. Eh. L'Inter in questo momento sarebbe sotto. Sarebbe già sotto sicuramente ma io infatti io ti voglio aggiungere un'altra cosa. Io magari dico una stupidata ma io non penso che dopo trenta minuti da quando veramente abbiamo visto un buon Torino pensare che l'Inter possa essere stanca fisicamente. Per una questione più che altro psicologica. Ti dice anche se ci sono stati i pelli nazionali se sei stanco viene fuori col tempo non viene fuori a inizio. Dopo trenta minuti perdonami non è che hanno giocato ieri sera e in ogni caso dopo trenta minuti eh stiamo parlando di giocatori comunque dell'Inter abituati allora adesso col Salisburgo non non si devono neanche presentare soprattutto perché non è il Torino. Eh giustamente come dice Filippo Inzaghi mh deve essere bravo più che altro a spiegare ma a capire se di testa perché abbiamo visto certi errori che secondo me. L'errore di Acerbi non è stanchezza. Se tu sei stanco che ha la gamba però è proprio qualcosa a misura e giustamente come si diceva prima le ultime partite dell'Inter abbiamo visto come stavano andando e se non è un problema di quel periodo chiamiamolo che ogni anno capita all'Inter nero di un periodo di mancata adesso. Sì sì l'anno scorso ci furono 11 sconfitte mi sembra 12 in campionato quest'anno credevamo che l'Inter fosse salita di tono anche dopo la finale di Champions League per carità non sta perdendo la perdita ancora lunga siamo 0 a 0. E se io non so cosa pensa Filippo se. Però da Inter sassolo in poi l'Inter ci ha un po' destabilizzato rispetto alle premesse. Beh io io direi da dopo il derby cioè da dopo il derby si si vince a fatica Empoli si perde si pareggia all'ultimo con la Real Sociedad. Vero. La vittoria con la Salernitana è vero è 0 a 4 ma fino al 1 a 0 fino al 2 a 0 era una partita assolutamente in bilico la Salernitana segna l'1 a 1. In fuori gioco però fa paura insomma. È un periodo poi c'è la sconfitta di Sassuolo il pareggio col Bologna in rimonta è un periodo abbastanza chiaro di appannamento da parte dell'Inter. Per cui mi dà ragione che è più una questione psicologica che dopo 30 minuti non puoi essere stanco? No non credo sia psicologica perché dovrebbe essere psicologica non sei riduce da due sconfitte no credo che sia una questione fisica e tattica perché nel momento in cui tu fisicamente non stai bene e ci sta può capitare giocatori che hanno dato tanto all'inizio che giocano tanto con le nazionali Lautaro non smette un minuto di giocare ci sta però a quel punto siccome tu non sei al meglio devi vincere la partita in un altro modo io vedo il Milan il Milan come vince le partite quando non sta bene o sta lì aspetta pazienta a due o tre giocatori che possono avere il guizzo aspetta che l'avversario si stanchi non gli concede o prova non concedergli granché non si allunga non si allunga non conceda all'avversario la possibilità di segnare che poi la parria diventa in salita e poi magari l'episodio alla fine male che vada la pareggi può capitare però con questo atteggiamento ad oggi il Milan ha vinto otto partite su nove ok quindi oggi l'Inter non deve giocare lunga non deve andare a pressare l'avversario il portiere da solo ma cosa vai a pressare il portiere da solo con la squadra dall'altra parte tutta sfilacciata Mkhitaryan è là c'ha la Noglu è là Barella è a pressare il portiere però vedi Filippo quello che stai dicendo del Milan io del Milan a volte ti seguo il Milan vado a vederle le partite lo guardo sempre da Milanista uno massimo due giocatori che vedi che magari quel giorno lì veramente sono da prendere e portarli fuori a spinta per cui non è buona parte come si sta vedendo in questo questa sera lì all'Inter aspetta ho capito a meno che domani sera il Milan con la Juve dormono tutti anche loro per la pausa dico solo che questo tipo di prestazione dei singoli è figlio di una prestazione tattica di squadra completamente sbagliata se tu quando io sono stanco mi chiedi di tenere la posizione di stare attento alle marcature non di farmi 40 metri e poi tornare indietro di 40 metri 40 metri torno indietro di 40 metri per 45 minuti se io non ho le gambe quello non te lo posso fare se tu mi chiedi invece rispetto a questo lavoro un lavoro più di concentrazione e meno di gamba allora a quel punto magari sbaglio di meno magari faccio la cosa più semplice magari vado in conservazione cercare di far sprecare meno l'energia possibile poi alla lunga vediamo se devo vincere la partita cambio qualcosa magari anche l'avversario si stanca mi concede qualcosa di più mi concede uno spazio che adesso non mi sta concedendo non lo so ma la partita dura 90 minuti non dura un tempo non dura 20 minuti non dure 20 minuti iniziali dura 90 se io vado sotto una zero vai a recuperare la sua partita in queste condizioni ragazzi cioè dai io mi aspetto qualcosa nel primo tempo certo oggi se vai sotto per quello che abbiamo visto nel primo tempo ci mancherebbe manca un secondo e sicuramente come detto te inzaghi oggi malissimo oggi la peggiore partita adesso deve picchiare un po' i pugni dopo la real sociedad la è la peggiore partita che abbia visto in inizio anno da inizio anno non abbiamo fatto un cross in mezzo non abbiamo fatto un tiro in porta non abbiamo battuto un calcio d'angolo non abbiamo fatto tre passaggi di fila non abbiamo fatto una sovrapposizione non abbiamo tenuto una marcatura la peggiore partita da inizio anno a questa parte nel momento in cui dovevi fare una delle partite migliori e allora vediamo anche con con i voti di filippo quali sono stati migliori e peggiore di questa interna al primo tempo il commento poi di simone e alessandro summer sette per fortuna c'è lui ha fatto due o tre parate importanti magari non impossibili ma comunque l'attenzione rispetto agli altri l'ha avuta anche nelle uscite anche nelle chiusure è praticamente il giocatore dell'inter che ha tenuto più il pallone quindi sette summer dopo avardo sei e mezzo perché comunque lì dietro attento in paio di chiusure non perde la marcatura è andato in anticipo due volte quindi un paio di volte quindi sei e mezzo a pavardo non l'avevo ancora detto bravissimi no no l'hai detto sono rincoglioni e devrai stesso discorso di pavard sono buona compagnia devrai figurati come arrivo alle undici devrai stesso discorso di pavard sei e mezzo anche lui devrai sei e mezzo per quanto riguarda i down c'è una spilza parto da sì parto da mkhitaryan che secondo me è assolutamente il peggiore il peggiore di tutti tra l'altro regala è una palla assurda a sec ma è fermo sulle gambe io mi chiedo come non si possa notare che mkhitaryan non è in forma in questo momento fai giocare frattesi comunque quattro e mezzo mkhitaryan quattro e mezzo a mkhitaryan stesso discorso vale per barella un pochino meglio di mkhitaryan cinque e se devo cercare un un terzo a cerbi a cerbi malissimo cerbi malissimo nelle chiusure non si è mai visto non tiene la ma poi poi quella quell'apertura su pavard è proprio segno di un momento in cui non hai la testa no quindi cinque anche a cerbi cinque a cerbi siete d'accordo ragazzi si sarebbero molti altri è però certo certo e filippo ha detto i peggiori ecco qua grazie alla regia mkhitaryan ambarella e a cerbi a cerbi col cinque quindi anche lui stesso voto del centrocampista siete d'accordo avresti messo dei nomi diversi ma ce n'era come ha detto anche filippo quattro e cinque intercambiabili beh da casa interessa sempre l'attacco turam e lautaro che voti gli dai turam comunque boh una sufficienza io gliela darei perché ha fatto comunque ha si è mosso ha fatto bene la sponda non proprio la sponda cioè ha dato aperto il gioco secondo me cioè si è interessato cercava di secondo me di tu fai un po il bufo eh mi sa oggi ma poverino hai detto si è impegnato secondo me cioè a prescindere dal si è impegnato lo fa no non parlo di generale vabbè cioè non è che l'autaro voto eh l'autaro l'autaro cinque e mezzo cinque e mezzo ma mi ha scritto appena un capo tra ha detto se posso suonare la carica con uno dei miei canti e mi ha scritto così cioè prego siamo l'armata nero azzurra e mai nessun ci fermerà quando l'inter giocherà noi saremo sempre qua perché l'inter è la squadra degli ultrass nero azzurro è il colore che amiamo nero azzurro sei tutto per noi a san siro in italia in Europa sei la fede di noi tuoi ultra va bene vediamo se porterà se porterà bene Ale sui voti di Filippo mi ha messo proprio vicino un ultra no 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 ti voglio bene spumiamo mi viene l'herpes sui voti di Filippo Ale sono d'accordo sugli app sono d'accordo ripeto a me è piaciuto per l'impegno visto Turanc a me sono sincero piace molto come giocatore per quel poco che ha potuto fare l'Inter davanti mi è piaciuto io un 6 glielo darei per i down ce ne sarebbero altri da aggiungere perché ho visto veramente mezza squadra che oggi non è in campo secondo me può fare molto di più anche perché ricordiamoci che oggi nella doppia sfida Milano-Torino l'Inter sulla carta è favorita con il Torino, il Milan domani sera la Juventus rivediamo la classifica eccola qua di fianco a te e mi permetto da dire che se domani sera il Milan fa un risultato positivo e l'Inter oggi non lo fa vincendo un derby ti trovi sotto di 4 punti spero di perderli tutti firmeresti per l'Inter che pareggia stasera il Milan che pareggia domani sera? sì il distacco rimane mutato sì anche perché con una Juventus che io ho sempre paura di questa Juventus perché ancora non riesco a capirla la Juventus è dico sempre come l'anguilla più la tagli più si muove bella questa è vero l'anguilla fa così per cui della Juventus avrà un grande rispetto per cui perfettamente Paolo a Simone è piaciuta un sacco sì la dico spesso questa battuta per cui è vero firmerei firmerei perché noi col Torino abbiamo vinto io dico sempre con le squadre con tutto rispetto di media classifica se vuoi vincere lo Scudetto sei lì che devi fare i punti sei lì che devi portare a casa sei lì che devi portare a casa poi gli scontri diretti e lì te la puoi giocare firmerei anche perché l'Inter ha già perso terreno con Sassuolo in casa col Bologna in casa oggi Simone infatti la logica è che comunque noi siamo sopra abbiamo perso il derby giusto Simone? cosa? come cosa? ti ha parlato lui? guardi me ho detto che noi nonostante nonostante abbiamo perso il derby oh massacro ma siamo primi e queste sono preferisco perdere il derby queste sono addirittura queste sono quei misteri quelle magie che non si riesce a capire il motivo cioè veramente perché non bisogna lasciare poi gli altri punti in mezzo alla strada ma il Milan non dimentichiamoci che ha vinto uno Scudetto così l'ultimo Scudetto che ha vinto il Milan l'ha vinto così così come l'Inter secondo me era una squadra nettamente più forte però ha vinto il Milan è incredibile noi possiamo sempre dirlo le squadre più forti è incredibile devi fare i punti sul campo non è che vinci infatti l'ha meritato non dico che non l'ha meritato però potenzialmente l'Inter era era più forte quasi nettamente più forte e però il Milan si sta scaldando Dumfries voi fareste cambi foste in Inzaghi subito? io ne farei cinque cambi cinque cambi subito no nel senso che almeno tre mi devi dire anche chi entra però metterei Dumfries al posto di Darmian al posto di Darmian poi toglierei metterei Frattesi al posto di Cialanoglu al posto di Cialanoglu e poi Frattesi al posto di Cialanoglu e chi metti a fare regista? vabbè niente c'è Cialanoglu ma hai detto che lo levi? no non ho detto che hai detto Frattesi al posto di Cialanoglu no ho sbagliato ragazzi io capisco un po' di rincoglionimento ma qua stiamo andando facciamo così ho sbagliato Frattesi al posto di Nikitariano la sosta nazionale ha fatto male anche a noi volevo dire Frattesi al posto di Nikitariano ho sbagliato buono Dunfriis va a puntare l'avversario Dunfriis 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 serie di finte arriva il cross indietro per Turam 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 Marcus 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 Turam 1-0 per l'Inter cross di Dunfriis destro di Turam non ci arriva Milinkovic Marcus Turam 1-0 per l'Inter 1-0 per noi Marcus Turam dai raga su sveglia sveglia dai Marcus Turam dai ragazzi dai 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 su sveglia adesso sveglia 1-0 dell'Inter ha segnato Turam che ci ha raggiunti in studio al volo giusto per salutarci adesso lo facciamo vedere questa è la classifica Lautaro 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 in era di rigore Lautaro l'uscita di Milinkovic e Lautaro commette fallo calcio di punizione per il Torino classifica con l'Inter che va temporaneamente al primo posto superando il Milan ecco qua Turam ma cosa canta? Marcus Turam Marcus Turam Marcus Turam Marcus Turam grazie Simone grazie 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 Alessandro fammi un commento a questo gol bel gol di Marco Turam l'Inter è una grande squadra e anche se per 60 minuti non meritava ha trovato l'invenzione di un ottimo giocatore ed è in vantaggio le partite si vincono anche così quello che dicevamo prima le partite durano 90 minuti e l'Inter è ovviamente più attrezzata per battere questo Torino c'è da dire che visto che parlavamo prima del cambio Dunfriis-Darmiana anche se poi Darmiana è rimasto in campo a fare il terzo di difesa l'ingresso di Dunfriis comunque ha dato subito profondità la palla di Cialanoglu larga e Dunfriis va a puntare l'uomo e dà la palla a rimorchio poi per carità non è che è un assist a porta vuota è un pallone a rimorchio poi Turam è bravo e fortunato anche perché non l'abbiamo detto c'è stata una deviazione decisiva di Linetti sul tiro di Turam il tiro di Turam era un piattone a giro che sarebbe rimasto abbastanza centrale Linetti con la punta del piede lo sposta lo allarga e mette fuori casa il suo infatti è già cambiata l'Inter anche adesso un'altra quasi azione di Lautaro attenzione Lazaro fa secco Darmian va fino in fondo Lazaro può provare il cross col mancino sbaglia tutto per fortuna nostra ha fatto tutto bene l'ex nero azzurro poi al momento di crossare col mancino ha ciccato completamente la palla Darmian è un altro sinceramente per esempio il cambio Darmian cioè Pavard Dunfris non l'ho capito Dunfris è giusto ma non ho capito perché Darmian in campo e Pavard fuori attenzione frattesi cross facile per Milinkovic questo è il classico gesto per simulare quando un giocatore svirgola non è cioè hai temuto il peggio ma il verso era solo la svirgolatura va bene infatti su un'azione così davanti un cross così è proprio la differenza dei giocatori da una parte e dall'altra e adesso chiaramente il Torino manifesta no tutto diciamo l'insufficienza che ha in attacco perché va davanti è davvero poca cosa per quel che ci ha fatto vedere finora e anche nello scorre dei giocatori attenzione però adesso a Vlasic sì attenzione il Torino c'è la chiusura di Ciala che non riesce Lazaro continua il pressing di Ciala Frattesi lo aiuta l'Inter in qualche modo gadagna un fallo laterale andando a pressare adesso l'Inter deve fare quello che mi aspettavo già prima dà l'idea di aver compattato un po' il gruppo il gol eh gli avrà detto qualcosa negli spogliatoi in Zali eh il gol sicuramente ti toglie molta pressione e ti aiuta a gestire la partita in maniera diversa cioè adesso a questo punto tu devi stare compatto chiuderti e poi puoi ripartire adesso grande palla di Turan per Frattesi che può avanzare sulla destra però in area di rigore non c'è nessuno lo Frattesi si deve fermare lato corte della rigore va a puntare l'avversario arriva il cross morbido in mezzo Lautaro anticipato da Bellanova ottimo Frattesi bravissimo ad andare fino in fondo poi però l'area di rigore nessuno l'ha riempita il cross comunque Frattesi l'ha provato Bellanova per non sapere né leggere né scrivere ha messo il pallone in corner anche perché alle spalle aveva una corrente l'autaro cross che verrà affidato immagino a Cialanoglu dalla sinistra anche qua molto bravo Turan nell'aprire per Frattesi dal nulla ce l'ho detto io Turan sta facendo una partita egregia poi il gol ha sublimato una prestazione che se finisce così la partita gli darei parte Cialanoglu con il destro arriva il cross sul primo palo la spizzata e l'autaro Martínez è il toro è il toro è il toro l'autaro Martínez 11 gol in campionato sempre più capocannoniere l'autaro cross di Ciala spizzata sul primo palo credo di De Vrij e poi gol di Tessa sul vicino la linea di porta a battere Milinkovic di Lautaro Martínez 2 a 0 per l'Inter Lautaro Martínez è il toro adesso lo rivedo così guardo anche chi ha fatto l'assist bravi dai ragazzi su su ancora 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 concentrati 67esimo minuto di gioco partita molto ben indirizzata ovunque tu andrai al tuo fianco mi vedrai io che amo solo te internazionale e a Cerbi che ha che ha prolungato la traiettoria di Cialanogu con la testa proprio apposta per allungarla l'autaro non la colpisce testa spalla si benissimo la colpisce con la testa la palla gli va sulla spalla quindi se la tira sulla spalla fa gol di spalla praticamente avevamo detto che all'Inter tra virgolette bastava sbloccarla no? perché Torino si difende bene ma la davanti poca cosa infatti è bastato infatti io per quello ribadisco quello che ho detto prima è vero che ci sono stati cambi però questi tre cambi hanno completamente cambiato era una cosa psicologica si sono sbloccati infatti ho detto che se ne ne fanno uno ne ne fanno altri due vediamo se finisce 3-0 volevo dirti che mi spavento di quest'uomo qua che ho a fianco perché ha sbagliato solo il minutaggio ma hai preso in pieno ha detto Turam e Lautaro ha detto Turam e Lautaro e poi ha detto Sanabria su rigore poi si è inventato un Sanabria su rigore per me gli fa il 3 l'Inter vediamo ragazzi attenzione attenzione le barbate i pendolini Turam e Lautaro ha beccato pure l'ordine tra l'altro beccato l'ordine questo ragazzo lo prendete in giro e poi va bene lasciamo stare povero Simoncino va bene Torino in possesso a palla Filippo si con Barella da sec ora l'Inter si chiude bene sugli uomini Barella è uscito è entrato frattesi e sta giocando molto bene secondo me dà un pochino più di compattezza al centrocampo attenzione che ora ci siamo alzati troppo con Carlos Augusto Carlos Augusto prova ad andare su sec che però guadagna la superiorità si sovrappone Bellanova sec ha un piedino fine di rio ancora una volta sbaglia grande capacità atletica sec grande leve molto lunghe una gazzella sul tocco di palla c'è da ragionare bisogna perfezionarsi un attimino ma giusto due ferro stirate tra il primo tempo è adesso che la vita bassa 69esimo minuto di gioco è ancora molto lunga sappiamo che dobbiamo stare concentrati fino alla fine abbiamo già avuto insomma degli episodi ora c'è fallo su Duramnet da parte del nuovo entrato Sozono diciamo che la differenza tra Schurz e Sozono in difesa si sente molto nel senso che uno è uno che ti comanda il reparto l'altro io non lo conosco lo conosco poco non posso giudicarlo per 20 minuti di partita però chiaro che uno comanda il reparto e l'altro invece fa il suo ma senza poterlo comandare attenzione ora il lancio di frattesi per Dunfris nello spazio Rodriguez è indietro arriva il cross di Dunfris ancora rimorchio Sozono sbaglia tutto attenzione attenzione Dunfris in area di rigore chiede un rigore l'Inter per un fallo di Sozono su Lautaro Martinez che rimane ancora a terra per dinamica ci scommetterei perché poi Sozono ha subito alzato le mani come a dire attenzione 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 la palla è ancora in gioco quindi non viene fermato il gioco però immagino ci sia in questo momento in corso un collegamento dell'arbitro con il VAR mette fuori la palla Carlo S'Augusto Lautaro rimane a terra dolorante probabilmente anche tattica questa cosa per far capire che ha subito un colpo adesso aspettiamo un replay e poi cerchiamo di capire Dunfris comunque sulla destra ha dato una marcia in più all'attacco dell'Inter vediamo vediamo perché vediamo eccolo qua eh sì ragazzi questo è calcio di rigore questo è calcio di rigore al 100% e qua ce n'è un altro sempre di Sozono su Dunfris Dunfris si libera della palla Sozono continua il take e le va a colpire Dunfris ci sono due rigori vediamo se almeno uno ce lo danno cioè mi sembrerebbe assurdo non avere un rigore del genere vediamo eh in caso hai preso anche il rigore ma hai sbagliato la squadra anche qua in cronaca dicono che non c'è dubbio no vabbè ma mi rifiuto di credere che non venga dato quello su Lautaro a maggior ragione eh attenzione vediamo non c'è non c'è rigore non c'è no vabbè ma io non capisco no vabbè ma dai ragazzi ma io posso io posso interpretare posso interpretare il mancato il mancato rigore dato cioè ragazzi non lo voglio neanche commentare l'arbitro ha visto che secondo me che Lautaro ha fatto prima questo gesto con la gamba verso il giocatore del Torino poi dopo il giocatore del Torino ha dato un calcio a Lautaro il calcio lo prende c'è poco da fare da dire il classico calcio di un giocatore che vuole colpire il pallone non lo trova e becca l'avversario cioè proprio classica dinamica settantaduesimo di gioco negato un rigore solare all'Inter che però è in vantaggio per 2 a 0 tant'io sul 2 a 0 Inter sì sì però bisogna sempre tenere l'antenna dritto ora sbaglia tutto Rodriguez Klasen Turam in mezzo al cerchio di centrocampo è un po' stanco perde palla deve alleggerire deve passare se non ce la fa ha provato una sterzata ma le gambe cominciano ad essere anzi sono già da parecchio molto pesanti ancora Bellanova spazio per avanzare sulla destra Klasen prova andare a chiudere ce ne sono tre lì sul pallone ancora Bellanova allarga per Ilic che tocca il pallone di nuovo ancora il pallone per Ricci largo sulla fascia di destra saccentra palla sul sinistro ora sul destro ancora Sazonova che allarga per Rodriguez Rodriguez va a verticalizzare si sovrappone Sanabria che prova ad andare fino in fondo secondo me si trascina la palla in out non secondo il guardialine palla allora buona ancora per il toro Ricci palla alta serie di batti e ribatti spazza l'Inter almeno ci prova poi a Cerbi butta via il pallone dall'area di rigore poteva essere un rimpallo molto pericoloso bravo a Cerbi a buttare la palla in fallo laterale intanto c'è qualcosa che l'arbitro ascolta al VAR no si va avanti che è successo vabbè pallo laterale per il toro gioco non ho capito se è ricominciato o no sì pallo laterale per il toro pallone indietro siamo al minuto 88 e 32 secondi ancora il Torino che prova ad avanzare sulla sinistra con Rodriguez nella metà campo dell'Inter va a chiudere Frattesi palla larga ancora una volta per il toro attenzione alla serie di finte c'è la chiusura di Dumfries che non riesce ancora Rodriguez arriva al cross in mezzo zirgola Carlos Augusto poi di testa anticipa Bellanova che prova a recuperare palla deve uscire dall'area di rigore ancora pressato dal brasiliano il fallo dell'ex giocatore del Monza e quindi calcio di punizione dalla tre quarti di destra per il toro sarà un pallone messo in mezzo qua vediamo sì c'è la spinta doppia mano di Carlos Augusto su Bellanova che ha protetto il pallone e quindi insomma lì lo tieni perché lo devi spingere poi è chiaro che ti fischia fallo no? doppia mano sulla schiena novanta di gioco calcio di punizione per il toro credo sia Ilic quello pronto a battere novanta di gioco poi aspettiamo ancora il recupero mancano trenta secondi al novantesimo sul pallone Ilic col mancino e Ricci con il destro tutto pronto per il cross ah meglio tutto pronto aspettiamo il fischio dell'arbitro che farà riprendere il gioco fischia l'arbitro indica ancora in area di rigore sempre su Sanabria Cerbi ce l'ha sempre con Cerbi arriva il cross in mezzo palla alta sul secondo palo Sommer mamma mia Sommer va a vuoto su questa uscita non arriva sul pallone sul secondo palo arriva Sazonov che a porta vuota non riesce a indirizzare Sanabria male guarda no no Sazonov sul secondo palo arriva con la spalla con la spalla porta vuota forse l'ha toccata però Sommer si si la tocca Sommer e mette fuori causa Sazonov non so se è un'uscita al di là che la tocchi saggia quella di Sommer però comunque efficace quel tocco gli ha tolto problema di Sommer che è un portiere basso cioè quindi su queste uscite qua se decide di uscire rischia sempre un pochino ora si è fatto male Turam tanto va a recuperare palla Mkhitaryan che la mette in fallo laterale si è fatto male anche Tamese praticamente su questo scontro alto c'è stato forse un testa contro testa credo si Turam si tocca la nuca e anche Tamese poi si è lasciato cadere a terra è andato a rincorrere la palla Turam si è già rialzato sembra che non abbia problemi Tamese invece ha fatto la rincorsa ah no ma il fallo è ahia Sazono non ho capito allora perché Tamese è andato giù sarà Krampi sarà qualcos'altro e comunque c'è fallo laterale a favore del Toro che però dovrebbe ridare palla all'Inter siamo al novantaduesimo minuto sono sei i minuti di recupero di cui 1.15 è già passato però ovviamente qua andrà recuperato recuperato tempo sul recupero finiremo giusto giusto con la partita con il termine della trasmissione poi dalle 8.45 ci ritroviamo qua per vivere assieme non solo Sassuolo-Lazio ma anche post partita di Torino-Inter il pre partita di Mila-Juventus quel che ha fatto il Napoli oggi che ha vinto al Bente Godi un voto intanto sta per entrare Bissec spazio anche per Bissec al posto di Dormian spazio anche per questo giovane ragazzo che non ha trovato probabilmente lo spazio che si aspettava e molti si aspettavano che trovasse che voto diamo all'Inter Simo? all'Inter do 7 nel secondo tempo ovviamente tutto nel primo tempo 5 ma chi se ne frega noi valutiamo complessivamente complessivamente è un voto 7 qui tra secondo tempo 7 e primo tempo 5 devo essere preciso grande palla di Carlos Augusto per Mkhitaryan attenzione Mkhitaryan può entrare in area di rigore dalla sinistra Mkhitaryan palla sul sinistro Mkhitaryan giù rigore giù rigore giù rigore calcio di rigore per l'Inter e cartellino niente non vedo la mano dell'arbitro ilice ma non ha dato il rigore non ho capito cosa sta succedendo non lo so stanno inquadrando l'arbitro dovrebbero fare rigore rigore l'arbitro ha fischiato cosa fischi se no vediamo no rigore netto rigore netto ma cavolo rigore netto ce ne sono 6 di rigori qua dentro quindi rigore dato non ha dato il cartellino semplicemente intanto vediamo ma cosa c'è da guardare va a vedere perché non sa se ha preso la palla oppure tanto Tamese non ce la fa sì Tamese mentre si giocava è caduto crampi non riesce più vediamo qua rivediamo Tamese che si tocca la coscia sinistra credo o destra Tamese arriva comunque sto campo qua è problematica due infortunati ragazzi non è rigore questo qui gli ha preso prima il ginocchio e poi il piede la palla non la vede neanche in foto cioè cosa allora io ho visto il piede però secondo me stanno valutando se Mkhitaryan fosse già in caduta quando l'ha toccato no dai ragazzi su cioè boh nel senso è in ritardo arriva da dietro sì no dai rigore ma questo è più clamoroso più netto di quello di prima c'è un logo inquadrato come se fosse sul dischetto certo se la regia magari facesse un'inquadratura oh ce l'abbiamo fatta abbiamo capito che è rigore sì sì no ma io ti dico a me cioè proprio non so cosa stiamo aspettando perché non si è capito che avete detto rigore l'ha dato e già su dischetto si è allontanato l'arbitro finiamo dopo domani questa partita c'è ancora inquadrato l'arbitro come se il VAR lo stesse riguardando non lo so cioè due ore per decretare un rigore ma ti ripeto riguardi dopo guardiamo il replay il 94 da me è sembrato nettissimo no no ma figurati dicevo solo no non per te perché se lo stanno chiedendo provavamo proprio a a trovare a trovare a trovare a trovare ogni sì esatto l'ha dato tutto pronto Cialanoglu Cialanoglu sul destro con il destro io ho detto 3-0 risca l'arbitro parte Ciala 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 Akan Cialanoglu 3-0 per l'Inter a Torino segna anche al Turco il Turco su calcio di rigore la chiudiamo qua 3-0 una trasferta difficile un primo tempo bruttissimo ma poi l'Inter viene fuori segna tre gole segna anche Ciala su calcio di rigore bravi ragazzi dai 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 su su salutate la capolista aspetta domani sera salutate la capolista aspetta domani sera salutate la capolista tin tin tiri tin titi tiri salutate la capolista l'ha intuito Milinkovic ma davvero molto angolato e potente il tiro di Cialanoglu un rigore praticamente imprendibile 3-0 Inter l'esultanza di Beppe Marotta di Piero Ausilio di Avie Zanetti in tribuna Inter che fino a sessantesimo non aveva per niente giocato bene poi sbloccando la partita la partita negli ultimi 30 minuti la chiusa col gol di Turam io credo che sia chiusa l'avevamo detto così è stato questa è la classifica come ci dice Simone Inter prima in attesa che domani il Milan affronti la Juventus a San Siro 30 secondi al termine della gara Ale cosa dire? ma niente io cosa ho detto prima cosa mi dici? dimmi al volo abbiamo un minuto cosa ne pensi di Mirante? di Mirante? dai ma basta arbitro dai ma piantala con sti gialli del cavolo ma su ma vergognati ma dai ha munito Carlo S'Augusto mamma mia sì ma per una protesta normalissima dai ma su guarda Bellanova via ci sta il fallo di Carlo S'Augusto il guardialino glielo concede giustamente Carlo S'Augusto fa ma dai e si gira dall'altra parte l'arbitro arriva da 30 metri col cartellino in mano ma vergognati sono per Marosetti ma al volo sì speravo in Magnan domani sera abbiamo due assenze importanti speravi in Magnan poi speravi in Sportiello speravo in Sportiello abbiamo eh ti tocca ammirante allora la regia mi sta dicendo che chiudiamo anche se la partita non è finita io mi fido della regia chiaramente essendo in onda non posso che che fidarmi è chiaro ed evidente che il risultato della partita è bello che chiuse stracchiuso non vogliamo manco aspettare la punizione cosa facciamo come vuoi la punizione è pronta per essere battuta dai seguiamo la punizione anche se l'arbitro continua a avere mania di protagonismo da parlare con tutti ferma il gioco è veramente ma veramente insopportabili questi atteggiamenti tutto pronto sta per crossare arriva il cross in mezzo di Ricci mette fuori Mkhitaryan palla che si impenna poi spazza Klassen vediamo ci fermiamo ci fermiamo mi dicono di fermarci agli ordini Torino Inter 0-3 grazie Filippo Tramontana ciao Paolo grazie a tutti grazie Filippo grazie Simone Barbato ciao è finita è finita è finita è finita